buongiorno a tutti possiamo cominciare con la nuova storia che vi leggo ha scritto maria allora cominciamo mi chiamo maria l'esperienza della mia famiglia nel campo dell'accoglienza è nata intorno agli anni 90 quando con mio marito abbiamo sentito il desiderio di un altro figlio le nostre due figlie naturali avevano allora otto e sei anni e noi soprattutto in ascolto delle situazioni di disagio e bisogno che giungevano dal mondo dell'infanzia ci siamo chiesti se la nostra famiglia potesse aprirsi all'accoglienza di un figlio che in qualche parte del mondo il signore aveva già preparato per noi per colmare il nostro desiderio di dono nel 90 non esisteva ancora un sensibilizzazione nel campo dell'affidamento familiare di un minore per cui la nostra attenzione si rivolta in un primo momento ad un'accoglienza che passasse attraverso l'adozione ma nel corso di un paio di anni formandoci riflettendo meditando chiedendo anche nella preghiera di coppia quale forse la richiesta la quale dovessimo rispondere il percorso adozione si è convertito in affidamento familiare per cui a febbraio del 1993 arrivata da noi una bambina cinese di due mesi e mezzo per noi è stata decisiva la spinta del paroco di allora che durante uno dei nostri periodici confronti in cui esplicitavamo le nostre perplessità e i dubbi legittimi ci ha detto di buttarsi nell'esperienza confidando sempre nel signore che sorregge e guida alle spalle avevamo anche un gruppo familiare parocchiale con il quale abbiamo condiviso la crescita della nostra piccola bimba cinese in momento che suo battesimo e tanti altri momenti di famiglia in cui la presenza della bambina scaldava e inteneriva il cuore di tutti noi presenti la fida è sicuramente un'avventura di vita molto intensa in cui è tutta la famiglia compresi i figli naturali che fa l'esperienza dell'accoglienza accoglienza non solo del bambino ma anche della sua famiglia d'origine si vive nella famiglia la presenza di un figlio non totalmente nostro da amare, a custodire, far crescere e donare alla famiglia di origine nel momento in cui le condizioni lo consentano abbiamo incarnato la figura del Cireneo affiancando una coppia in difficoltà aiutandola a sostenere la fatica per un tratto del camino infatti dopo circa quattro anni abbiamo lentamente accompagnato questa figlia verso la sua famiglia naturale la gratitudine nei suoi confronti è grande grazie a lei ed i suoi genitori abbiamo potuto conoscere un'altra cultura ma soprattutto l'esperienza ci ha fatto percepire un altro modo di intendere le reazioni all'interno della famiglia i figli anche quelli naturali non sono totalmente nostri Hwang è rientrata nella sua famiglia d'origine a otto anni circa e niente è andato perduto nell'affetto forte che abbiamo vissuto ormai ha ventiquattro anni il suo legame con me e le sorelle è rimasto intatto si è laureata e diventata cittadina italiana con lei continuiamo a vivere le vicende lieti e tristi di entrambe le famiglie nell'evento triste della morte di mio marito avvenuta un anno e quattro mesi fa ha sofferto la figlia il lutto per il suo papà affidatario la vita con Carlo mio marito è stata fortemente contrassegnata dall'esperienza dell'accoglienza nel febbraio del 98 è arrivata da noi un'altra bimba di due mesi e mezzo la nostra casa non particolarmente speziosa ospitava sei persone ma abbiamo potuto sperimentare che mattoni e pareti potevano avere la stessa elasticità della nostra casa interiore ed allargarsi a fisarmonica per fare spazio concreto ed affettivo ad una nuova figlia che adesso ha 19 anni e vive sempre con me la situazione della sua famiglia biologica non è recuperabile purtroppo per cui la fido e non prevede un termino dare vita affetto una famiglia una possibilità di riscatto un'esistenza in cui catene di povertà vanno spezzate è sempre stato tacitamente obiettivo della mia famiglia all'interno della quale le mie figlie naturali hanno potuto recepire la proposta educativa di un progetto di famiglia che diventa dono per chi può avere bisogno hanno vissuto legami di affetto che hanno lo stesso valore e lo stesso peso dei legami naturali quando ripenso al percorso di questi 24 anni di affido familiare mi risuona dentro un versetto della lettera agli ebrei alcuni senza saperlo hanno accolto angeli non so se le figlie che entrambe un giorno di febbraio di parecchi anni fa hanno bussato alla porta di casa siano angeli sicuramente con loro abbiamo vissuto un'esperienza di apertura del cuore e umanità per noi altrimenti impossibile ecco bella testimonianza di accolienza di affidamento sono tante coppie che decidono o adottarle un bambino prendere in affidamento preghiamo per queste coppie e per coraggio che sentono ad aiutare a un ragazzo o ragazza è proprio come scrive la nostra Maria è un dono è un dono che si riceve ma poi un dono che si dà a un'altra famiglia riportando indietro un figlio o una figlia che già abbiamo accompagnato in un periodo di cammino preghiamo per queste coppie fidiamo alla Maria Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è l'ora della nostra morte Amen grazie a tutti ci sentiamo prossima settimana scriveteci come già ripeto varie volte scriveteci scrivete le vostre testimonianze email e sotto video scriveteci i vostri commenti e piccole storie che avete vissuto buongiorno buonasera a tutti ciao ciao grazie a tutti